Non cessa la fattiva solidarietà europea alle popolazioni ucraine. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'alto rappresentante per la politica estera Borrell si recheranno questa settimana a Kiev per incontrare il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky prima dell'evento Stand Up for Ukraine sabato a Varsavia. Quattro giorni fa Roberta Mezzola, presidente del Parlamento europeo, era stata la prima rappresentante dell'Europa a recarsi a Kiev. Grazie a tutti.